Inaugurata questo pomeriggio nelle sale del Maschio Angioino, la mostra di Ettore De Concilis Spazi di quieta e paesaggi e land art, una selezione di 24 opere che si ispirano ai temi della natura e del paesaggio, con un'ampia documentazione fotografica dedicata all'arte territoriale. L'esposizione, voluta dall'assessorato alla cultura e turismo del comune, include anche 12 immagini del fotografo siciliano Luigi Nifosi sulla strage del 47 di Portella della Ginestra. Questa mostra verte essenzialmente sui paesaggi che io ho prodotto in un arco di tempo maggiore ai 20 anni, sono 24 opere dipinte e una interpretazione fotografica del memoriale di Portella della Ginestra in Sicilia, il memoriale che celebra l'evento del 1 maggio 1947, il tragico evento perpetrato dal bandito Giuliano. Sono paesaggi che non vanno visti soltanto per la loro apparenza, per la loro tematica, che tra l'altro è molto diversificata perché si tratta di opere fatte in 20 e più anni, ma spero che si possa vedere il filo conduttore che consista nell'elemento poetico e spirituale che lega tutte queste opere. Nato ad Avellino nel 1941, Ettore De Concilis diventa celebre nel 65 con il murale della pace realizzato nella chiesa di San Francesco ad Avellino ed è considerato un artista multidimensionale che riesce con le sue opere a mettere insieme impegno civile, paesaggio e natura. La mostra resterà aperta al pubblico nella Cappella Palatina di Castelnuovo fino al 26 agosto. Sono molto felice di poter offrire ai nostri concittadini uno dei nostri grandi maestri, uno dei nostri più grandi pittori, con una mostra bellissima che racchiude alcune delle sue opere belle di questi ultimi 20 anni, quindi poter fare un percorso negli ultimi anni di attività e ovviamente io spero che poi da questo incontro approfondire una carriera, un percorso storico fatto di tanti episodi straordinari. veramente non si può descrivere a parole la spiritualità e la bellezza che si respira entrando in questa mostra.